Ciao a tutti cari amici di youtube, benvenuti sul mio canale, questo io sono Samuela Giove e questo è il mio canale benvenuto a te che sei un vecchio iscritto, benvenuto a te che sei un nuovo iscritto oggi cominciamo, anzi continuiamo con le ricette natalizie perché davvero vi mostro un regalo dolciario che sicuramente sarà molto apprezzato da chi lo riceverà e davvero a basso costo se vogliamo contare quei tre ingredienti proprio come dire principe che ci servono per realizzarli però prima di entrare nel dettaglio della ricetta chiamiamole la seconda strada del programma 3, 2, 1, si Ingredienti che più o meno abbiamo tutti a casa o comunque facilmente reperibili per realizzare che cosa? quei cioccolatini che sono davvero tanto buoni quanto però costosi perché comunque insomma specialmente durante il periodo festivo regalare uno scatolo di Ferrero Rocher, insomma una confessione di Ferrero Rocher ha il suo costo noi con una preparazione molto molto leggera e con un basso costo economico avremo la possibilità di realizzare in quantità maggiore e poi ovviamente utilizzando materie prime senza alcun tipo di conservanti vi mostro proprio il pochissimo ingrediente, la facilissima ricetta per realizzare questi cioccolatini che sono davvero super golosi, super buonissimi e sicuramente saranno un bellissimo regalo di Natale guardate la ricetta quindi per preparare i nostri Ferrero Rocher fatti in casa, golosissimi, davvero molto semplici abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti di 300 grammi di wafer alla nocciola, al cioccolato li ho trovati io che ho semplicemente messo nel robottino e li ho sbriciolati e ne servono 300 grammi poi abbiamo bisogno di 180 grammi di crema spalmabile questa è quella che realizzo io a casa presto a rivelare la ricetta delle nocciole intere quanto bastano poi vi renderete conto in base a quanti dolcini, a quanti cioccolatini usciranno poi avremo bisogno di 300 grammi di cioccolato che io sto facendo sciogliere al microonde e della granella di nocciole quanto basta proprio perché ci servirà per la decorazione cosa andiamo a fare? molto semplicemente quindi andiamo a prendere la nostra bull dove abbiamo messo in tutti i nostri wafer tritati e ci andiamo ad aggiungere la nostra crema fatta in casa che vi assicura tutto un altro sapore rispetto rispetto alla crema spalmabile che troviamo nei supermercati anche perché si sente molto di più la prevalenza della protagonista cioè della nocciola e molto meno invece l'altro ingrediente che è appunto lo zucchero quindi una volta raccolta tutta quanta la nostra crema andiamo semplicemente con un cucchiaio ad amalgamare tutti quanti i nostri ingredienti una volta fatto ciò ci andremo ad inumidire le mani perché faremo delle palline nelle quali poi internamente andremo a mettere la nostra nocciola intera vado ad inumidirmi le mani e ci vediamo per il passaggio successivo ho inumidito le mani e adesso andiamo a prelevare una parte dell'impasto andiamo a formare una polpettina pigiamo all'interno questa mi sembra un po' poco pigiamo all'interno andiamo a prendere una nocciola e la mettiamo dentro e poi come fosse una polpetta andiamo a ripristinare la forma circolare che abbiamo dato all'inizio più o meno questo è il risultato che dovreste avere continuiamo così con tutte quante i nostri cioccolatini ci vediamo dopo per la glassatura bene questi sono i miei cioccolatini non ancora glassati adesso ci occupiamo invece della glassatura ho sciolto il microonde e il cioccolato e adesso non faccio altro che aggiungere la granella di nocciole mescolo tutto quanto proprio per rendere simile rocher sì in questo caso direi proprio uguale e ferrero rocher ci rendiamo conto di quanto possa essere magari ne mettiamo ancora un po' che tutto quello che abbondiamo poi troviamo mai lesinare sul cibo e che cosa andiamo a fare? andiamo a glassare i nostri cioccolatini quindi prendiamo un cioccolatino che nel frattempo si è stabilizzato lo giriamo nella glassa e lo andiamo poi a riprendere e a posizionare su una gratella continuiamo così con tutti quanti i cioccolatini guardate la bellezza dei miei cioccolatini appena terminati sono stati per una mezz'oretta nel frigorifero una volta glassati e questo è il risultato finale trovo che davvero siano eccezionali per non parlare poi che oltre a essere identici agli originali hanno però una grandissima differenza quella che comunque sono realizzati con ingredienti scelsi con ingredienti naturali senza alcun tipo di conservante trovo che siano davvero eccezionali anche da regalare magari in occasione delle prossime feste saranno veramente magari posizionate in un bellissimo vassognetto in tema natalizio davvero un'idea regalo molto molto apprezzata e sicuramente molto molto ben come dire confezionata perché laddove ci mettiate un bellissimo fiocco davvero sarà molto molto gradito e sarà un regalo fatto con le proprie mani la bellezza di questi cioccolatini non ha nulla da che invidiare a proprio quelli originali se poi contiamo anche il fatto come mi dicevo nell'intro che comunque sono realizzati con ingredienti freschissimi che non hanno conservanti e che comunque sia potete realizzarne di più con un minimo davvero di spesa economica rispetto a quanto spendereste se compraste una confezione degli originali beh il tornaconto è davvero molto 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 elevato quindi come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto attivare la campanella molto da che voi siete visitati tutte le volte che facciamo video tanti pollici in su, tanti like sapete che dovete condividere il video perché specialmente in questo periodo abbiamo bisogno di idee come doni natalizi che possano essere suggestivi ma altrettanto economici dato un delicatissimo periodo come sempre come fare per non perdere nessun video nulla di più facile in maniera gratuita qui sotto di me c'è un pulsante c'è scritto iscriviti da rosso poi lo fate diventare nero con lo stesso principio attivate la campanella così siete certi che una notifica vi partirà tutte le volte che la vostra amica Samui la pubblicherà un nuovo video video che comunque sapete è variegato perché spazia dalla musica spazia dalla cucina spazia dalla recitazione vedrete a breve spazia anche dalla lettura e a questo proposito io vi ricordo che magari se volete regalare questa meraviglia dolciaria e fare un regalo ancora più suggestivo potete aggiungersi il mio libro Isole che sta avendo sempre un grande successo e ve lo consiglio come regalo di Natale ottimale vi ricordo che ogni video è visualizzabile sulla piattaforma Youtube alle ore 18 ogni venerdì puntuale io sono là vi ricordo come sempre che sono dappertutto il mio indirizzo internet è qua sotto io vi ringrazio tanto per la grande grandissima per la grande partecipazione che è sempre dimostrata e grande supporto e come sempre vi ricordo che con Samui Cucina ogni creazione soprattutto a Natale è una creazione divina vi faccio vedere l'interno di questi gioiellini mamma mia io ne ho mangiati non so quanti già non so quanti arriveranno a Natale no secondo me no ci vediamo venerdì con una nuova ricetta grazie a tutti Grazie a tutti.